Mi chiamo Eutropos e oggi riposo in pace in questa tomba che con tanta cura mio figlio ha preparato per me. Per tutta la vita ho fatto il marmorarius, ho tagliato, inciso e scolpito i marmi più belli e preziosi. Portavo sempre con me gli attrezzi del mestiere come scalpelli, ascia e clave. Dopo tanti anni passati ad affinare la tecnica, finalmente sono riuscito a scolpire i sarcofagi con grande maestria. Mi posizionavo davanti al blocco di marmo e salivo su un grande sadile con scalini per mettermi comodo ad imbracciare il trapano, strumento fondamentale per scolpire nel marmo anche i dettagli più particolari. Il trapano richiedeva tanta forza, per questo ad affiancarmi c'era sempre un aiutante che faceva ruotare la punta metallica del trapano con una cinghia arrotolata attorno al braccio dello strumento. È così che realizzavo i miei sarcofagi con leoni, delfini e strigilature. Ed è così che voglio essere ricordato per sempre. Eutropos, il mar Morarius.